buona domenica a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Indian Wells ovviamente, semifinali maschili nella giornata di ieri hanno giocato solo gli uomini mentre la finale femminile ci sarà stasera alle 22 ora italiana mentre quella maschile questa notte che verrà insomma tra domenica e lunedì prima di continuare e prima di scoprire insieme cosa è successo in queste semifinali vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi, attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo contenuto e ditemi la vostra qui sotto nei commenti riguardo appunto questo torneo di Indian Wells e riguardo anche la corsa verso le ATP Finals allora, da che cosa partiamo? partiamo dal fatto che Dimitrov e Fritz hanno perso io mi sarei aspettato ma come penso tanti anche se di fondo ognuno di noi sa che le sorprese sono sempre dietro l'angolo però mi sarei aspettato un Dimitrov-Fritz in finale e sarebbe stato un bene anche per quello che possa valere insomma anche per Yannick Sinner perché Dimitrov perde 2-7 a 0 6-7, 6-3 se non erro lo vado a vedere subito no, questo come al solito mi sbaglio è il risultato di Fritz Basilasvili 2-6, 4-6 perde Dimitrov da Cameron Unnorri Unnorri che sta giocando veramente bene e l'ATP Race, la corsa alle Finals non è mai chiusa perché vedete può accadere che in una settimana importante come questa un Master 1000 tanti punti in palio mille punti appunto per la vittoria in palio e può accadere di tutto un giocatore che ti è dietro mille punti può benissimo scavalcarti facendo la settimana perfetta e sto parlando appunto di Cameron Unnorri che se dovesse vincere già così si è avvicinato comunque a Sinner nella classifica nella Race, ripeto per chi non lo sapesse Race e Ranking sono due cose diverse ovviamente già si è avvicinato così ma qualora dovesse vincere la finale scavalcherebbe Sinner in classifica ed è un problema che si aggiunge in più perché già la strada comunque già la strada è in salita però con questo eventuale con questo exploit diciamo così di Norri già lo è perché recupera tanti punti si complica ancora di più perché hai un avversario in più contro il quale lottare certo poi perché non può succedere la stessa cosa a Sinner magari a Parigi-Bersea ad esempio Master 1000 settimana perfetta arrivi in finale lo vinci magari e ti si ribalta tutta la situazione quindi non si può mai sapere però ovviamente ci atteniamo ai fatti e a quello alla realtà dei fatti e a quello che che viviamo e che abbiamo visto fino ad ora quindi un grande Norri batte Dimitrov 6-2-6-4 e vola in finale una finale in cui giocherà contro Basilasvili il georgiano avevo un lapsus non mi ricordavo da che nazione provenisse però il georgiano Basilasvili che ha battuto 7-6 6-3 nel primo set ha annullato 3 set point a Fritz e poi ha chiuso al tie break e nel secondo set è bastato un break quindi un solo servizio strappato in tutta la partita i due giocatori si sono comportati pressoché bene quindi a servizio ma bastano dei dettagli e un unico servizio strappato da Basilasvili per far sì che voli in finale quindi anche Basilasvili in classifica recupera un bel po' di punti anche se è un po' più staccato ovviamente però qualora dovesse arrivare un altro risultato del genere cioè si butterebbe nella mischia anche Basilasvili quindi è una situazione abbastanza ingarbugliata e da vedere settimana per settimana non si possono non si possono come avete visto anche fare troppi calcoli troppe previsioni insomma vedere non alla giornata ma alla settimana quello quello che succede quindi complimenti a loro e hanno sconfitto sia Dimitrov che Fritz quindi non me la sarei aspettata una cosa del genere almeno uno dei due uno fra Dimitrov e Fritz pensavo fosse andato pensavo sarebbe andato in finale perché non riesco a parlare delle volte vabbè non fateci caso pensavo sarebbe riuscito ad andare in finale però non è stato così evidentemente quindi il tennis è strano lo sport è strano e questa stranezza fa sì che che sia che sia bello e da seguire in ogni in ogni momento perché non sai mai cosa puoi aspettarti dando uno sguardo agli altri tornei e aspettando quindi le finali di oggi sono iniziate come ho già detto ieri le qualificazioni a Mosca sia per l'ATP che per il WTA sono iniziate o meglio iniziano oggi le qualificazioni ad Anversa torneo ATP 250 ovviamente e sono iniziate anche le qualificazioni del WTA di di Tenerife quindi alle isole nelle isole siamo nelle isole Canarie e che dire anche questa sarà una settimana importante anche se composta da tornei minori ovviamente rispetto ad Indian Wells però sono sempre punti importanti non so sinceramente ancora non ho visto le presenze le varie presenze dei nostri italiani nei tornei però le scopriremo insomma insieme nei prossimi giorni e le commenteremo e le valuteremo come sempre assieme nei miei video quindi supportatemi iscrivetevi attivate la campanella lasciate un like e ditemi le vostre opinioni sotto nei commenti alla prossima e al prossimo video ancora buona domenica a tutti a tutti Grazie a tutti.